E' ora? E' giusto? Un lunedì alle 8.30 a cercare di capire il motivo per il quale sfortunatamente Dio, chi sia per lui, se non credete in Dio, non ci ha creato immortali. Quindi, il tema di stasera lo cercherò di sviluppare in due parti. Il primo è una parte sul quale sono un po' meno familiare, perché cerca di capire qual è la nostra aspettativa di vita in confronto ad altre specie viventi, esistenti nel nostro pianeta. Invece, nella seconda parte, entreremo nei meccanismi genetici e biologici, soprattutto riguardanti la senescenza. Nella terza e ultima parte, che penso che sarà la più interessante per molti di voi, cercheremo invece di capire se esistono delle nuove terapie che sono in grado o di prevenire o di addirittura revertire il processo di invecchiamento cellulare. Come sapete, la nostra aspettativa di vita è semplicemente un calcolo matematico, che ci dice qual è in pratica la probabilità che noi abbiamo di vivere durante la nostra vita. si attesta intorno agli 80 anni. Questa è la vita media di un uomo. Però nel regno animale, e soprattutto fra i mammiferi, non è che noi siamo gli organismi più longevi. Esistono degli organismi che sono molto più longevi, per esempio l'elefante, o ad esempio la tartaruga gigante, che ha un'aspettativa di vita, e quindi un lifespan di circa 150 anni. Quindi c'è una estrema variabilità fra diverse specie, fra specie e specie. E addirittura esistono degli organismi, che non sono in questo caso i mammiferi, che possono essere anche considerati come degli organismi immortali. Quindi era una cosa che, ad esempio, io non sapevo bene, ma ho fatto una ricerca, e esistono moltissimi organismi immortali, cioè tre o quattro. Io pensavo che non esistesse nessuno. E questo è il caso, ad esempio, di questa medusa, che ha praticamente delle caratteristiche tali, per il quale addirittura va incontro a un ciclo di maturazione, quindi di invecchiamento, e poi un ciclo di reversione, per il quale praticamente ringiovanisce e ritorna quasi allo stato embrionale. O di quest'altro organismo, che è famoso per chi studia biologia, che si chiama IDRA, usa uno stesso meccanismo, in pratica l'IDRA ha delle cellule staminali iperattive, non va incontro a un processo che vi descriverò, si chiama senescenza cellulare, ed è anche questo in grado di ringiovanire. Quindi nel mondo animale esistono delle specie che possono essere considerate immortali, purtroppo noi non siamo fra queste specie che possono essere considerate animali. Questa è una spugna, non sapevo, l'ho imparato alcuni anni fa, facendo un progetto di ricerca che cercava di estrarre dalle spugne dei farmaci contro il cancro, quindi parlando dei biologi marini, che addirittura esistono delle spugne che hanno una vita non immortale, ma è quasi di 1500-1600 anni. Il motivo è perché, poi vi dirò, hanno degli enzimi che si chiamano telomerasi che sono in grado di mantenere queste cellule quasi immortali. O, dicevo, appunto, altre specie, come ad esempio la balena, che ha un'aspettativa di vita media fino a 200 anni, addirittura dei molluschi e via dicendo. Ancora avanti. Ancora avanti. Esistono anche, all'opposto, delle specie animali che hanno invece una longevità brevissima. e questo è il caso, per esempio, di questo specie che si chiama killifish turchese, che ora viene utilizzato da numerosi biologi, perché ha una vita, in pratica, di circa 3 o 4 mesi, ma la cosa molto interessante è che va incontro a tutti gli stati di maturazione, quindi dall'embriogenesi fino allo sviluppo puberale, in pratica l'edatulta, però ha un'aspettativa di vita di circa 4 o 6 mesi. viene utilizzato adesso da numerosi biologi nell'invecchiamento per fare degli screening, per trovare farmaci che possono prolungare la sopravvivenza di questi animali. Quindi c'è un'enorme variabilità. E arriviamo, ovviamente, all'uomo, che, come sapete, ha un'aspettativa di vita di circa 70-80 anni, con un picco massimo mai raggiunto di longevità, che è di 122 anni, che appartiene, questo primato, a questa donna, che si chiama Jeanne Calmet, che è morta nel 1997, e che è la donna più longeva mai esistita. È una donna francese, e tra l'altro, fino a 100 anni, questa donna camminava, interagiva normalmente, quindi aveva una vita praticamente simile a quella di un settantenne e di un ottantenne. Ora, la cosa interessante è che recentemente sono pubblicato un articolo sulla prestigiosa rivista Nature, proprio alcuni anni fa, che, attraverso un calcolo matematico, ha stimato che il calcolo matematico è molto complesso, non riesco tanto bene a decifrarlo, ma in pratica che il picco massimo di vita mai raggiunto da questa donna, che è il 122, è il limite biologico dell'essere umano. Quindi oggi sappiamo, mentre prima potremmo dire che potrebbe essere 120-140, oggi sappiamo che dal punto di vista matematico, che il limite massimo della vita di un uomo è 122 anni. Perché? Questo perché negli ultimi 30 anni non c'è mai stato un caso di sovracentenario che ha raggiunto i 123 anni. E quindi questo ci dà, da un punto di vista matematico, una certezza che non ci sarà qualcuno che è in grado di superare questi 123 anni. Allora, la domanda è perché gli organismi invecchiano in modo differente fra di loro e soprattutto perché c'è differenza all'interno della stessa specie per quanto riguarda il vecchiamento. Cioè, per quale motivo ad esempio un nostro parente è morto all'età di 50 anni e ce l'abbiamo invece un altro che ha un'età di 100 anni o 98 anni. Allora, esistono prevalentemente due tipi di fattori che sono importanti che bisogna discutere sono ovviamente fattori ambientali e una predisposizione genetica. Quindi sapete ad esempio che se può andare avanti che fino all'inizio del 1920 l'aspettativa media sia dell'uomo che delle donne era di circa 50 anni e progressivamente nel tempo quindi negli ultimi 60-70 anni siamo riusciti ad aumentare questa aspettativa di vita finché oggi siamo arrivati quindi a una media intorno 80-90 anni con un numero di centenari che supera addirittura le aspettative rispetto a quanto si poteva pensare da un punto di vista matematico. E quindi perché questo? Perché esistono dei fattori ambientali che sono migliorati durante questi anni lo sappiamo tutti questo è grazie al contributo della scienza e della medicina e quindi di quanti nella nostra società hanno scelto di fare i ricercatori gli scienziati o i medici come vedo alcuni qua e che hanno per esempio ottimizzato terapie antibiotiche negli anni magari Giorgio si ricorda negli anni 70 erano pochi il numero di antibiotici anche prima però c'erano pochi era un numero limitato oggi abbiamo un numero enorme di antibiotici oppure possiamo ad esempio curare i virus quindi con le infezioni virali o ancora siamo in grado ad esempio di cercare di curare certi tipi di tumore e quindi tutte cose che 50 anni fa 60 anni fa erano praticamente improbabili cioè non ci aspettavamo e allo stesso tempo se torni indietro è molto importante ricordare che anche le nostre condizioni economiche sono migliorate soprattutto nel mondo occidentale in Svizzera è sempre stato un paese abbastanza ricco ma si ricorderà qualcuno che il Ticino ad esempio aveva all'inizio del secolo aveva delle condizioni di vita differenti rispetto al nord della Svizzera e quindi c'è stato un progressivo miglioramento delle situazioni economiche dell'alimentazione quindi ora prestiamo molto più attenzione all'alimentazione e via dicendo quindi questo sicuramente contribuisce all'allungamento della nostra vita e poi ovviamente esistono dei fattori genetici spiegare il genoma a chi non studia medicina o chi non fa biologia è molto complesso ma come voi sapete siamo fatti la nostra informazione genetica è contenuta all'interno dei cromosomi quindi ogni gene è in grado di codificare per una proteina che poi svolge una funzione all'interno della cellula e oggi sappiamo da studi effettuati sia a livello animale quindi cosiddetto a livello preclinico sia a livello di genetica di popolazione che la componente genetica è fondamentale per stabilire se un individuo sarà longevo o no quindi esistono addirittura oggi dei software in base al sequenziamento del DNA che possono dirvi quale sarà su per giù la vostra aspettativa di vita ovviamente questo però può essere modificato dall'ambiente quindi può essere che qualcuno di noi abbia dei geni molto longevi ma che faccia una vita smoderata perché beva troppo tutte le sere abbia un'alimentazione completamente sballata e quindi avere un buon patrimonio genetico non vuol dire per forza di cose che questa persona riuscirà in pratica a sopravvivere per più di 80 anni quindi la cosa interessante è che questa sembra una slide abbastanza complicata ma che la maggior parte di questi geni che sono associati in pratica alla longevità di un individuo fanno parte di alcune categorie quindi non vi spaventate dalla diapositiva sono ad esempio dei geni che sono in grado di regolare dei segnali intracellulari in pratica una cellula è caratterizzata da un ambiente esterno quindi dove c'è un medium di cultura una membrana cellulare con dei recettori e questi recettori una volta attivati scatenano una cascata di segnali ecco la maggior parte di questi geni coinvolti nell'invecchiamento sono geni che proprio regolano ad esempio la proliferazione della cellula o adottura regolano il metabolismo della cellula sapete che la cellula così come il nostro corpo ha un metabolismo e ad esempio geni coinvolti nel metabolismo sono responsabili del fatto che noi possiamo avere un'aspettativa di vita migliore rispetto all'altro allora voi vi chiederete ma perché abbiamo delle mutazioni che altri non hanno no non sono delle mutazioni ma sono delle cosiddette varianti genetiche in pratica dei piccoli cambi di informazione genetica senza che alternano la struttura del gene sono responsabili ad esempio che un gene nel mio caso funzioni meglio rispetto a un altro caso in entrambi il gene funziona e fa una funzione ma nel mio caso funziona meglio ad esempio soffre quindi meno di uno stress ossidativo cioè dà alla cellula la capacità di poter sopravvivere dopo un determinato insulto che viene dall'esterno e questo ci porta un attimo a comprendere anche un aspetto molto molto importante esiste una componente genetica e una componente ambientale che influenzano la nostra sopravvivenza però esiste anche un processo biologico che noi adesso abbiamo cominciato a capire e a comprendere cioè tutte queste informazioni queste genetiche fanno sì che a un certo punto quando noi invecchiamo le cellule del nostro organismo diventano senescenti che cos'è la senescenza questo è un settore che noi stiamo ampiamente studiando nella cura dei tumori ma in pratica a un certo punto quando le cellule si dividono non riescono più a dividersi in maniera adeguata e dopo un certo numero di divisioni cellulari queste cellule si bloccano e quando si bloccano si bloccano irreversibilmente cioè non sono in grado di rientrare nel ciclo cellulare neanche dopo degli stimoli esterni molto attivi o delle mutazioni praticamente genetiche e questo è il tipico aspetto di una cellula che è praticamente invecchiata all'interno di un nostro tessuto e quindi se aspetta posso andare avanti così quindi ha un nucleo molto molto grande molto ampio un citoplasma è molto più piatta rispetto a una cellula che prolifera e soprattutto è una cellula che ha un'attività lisosomiale molto più elevata adesso spiegare lisosomi cosa sono non è importante ma quello che è importante ricordare è che se gli si dà un colorante che detetta questa attività lisosomiale queste cellule praticamente diventano blu sicurano di blu tant'è vero che oggi grazie a questa proprietà di queste cellule invecchiate noi siamo in grado ad esempio all'interno di un tessuto ad esempio cutaneo di vedere quante cellule invecchiate si accumulano all'interno del tessuto stesso quindi ora siamo in grado di ad esempio fare la diagnosi quindi sappiamo quello che succede e perché esiste questo processo di senescenza e cerco di spiegare in modo semplice il meccanismo biologico come dicevo esistono i cromosomi in ogni cromosoma ci sono c'è il DNA e ci sono vari geni però esistono anche delle estremità proteiche che incapsulano il cromosoma e queste estremità proteiche si chiamano telomeri e che fanno questi telomeri non fanno altro che proteggere il DNA dall'ambiente circostante che è l'ambiente nucleare che non è un ambiente facile nel quale sopravvive perché esistono ad esempio radicali libri dell'ossigeno che possono penetrare dalla membrana verso il nucleo e via dicendo quindi con ogni replicazione e con ogni divisione cellulare in pratica questi telomeri si accorciano progressivamente e questo è dovuto proprio a un fatto meccanico di attrito ed accorciandosi progressivamente il DNA delle cellule viene esposto all'ambiente nucleare esterno e si accumula un danno progressivo a livello del DNA quindi con ogni replicazione cellulare c'è un progressivo danno al DNA che è responsabile poi del fatto che la cellula improvvisamente dopo 60 divisioni cellulari si blocca e non so se l'abbiamo messa qua ma il limite di 60 replicazione cellulare è stato dettato nel 1960 da uno studioso che si chiama AFLIC che facendo dei semplici esperimenti in vitro prendendo delle cellule che derivavano fibroblasti che derivavano dal polmone o da un fascio muscolare e coltivandolo in vitro si è chiesto semplicemente quanto posso continuare a coltivare questa cellula e ripetendo questi esperimenti si accorse che il massimo per il quale questa cellula poteva essere divisa in vitro era di circa 60 replicazioni cioè 60 divisioni dopo di questo limite in pratica non era possibile andare si poteva accorciare questo limite cambiando le condizioni nel quale si coltivavano queste cellule ma non si potevano praticamente prolungare queste condizioni quindi questo fenomeno è noto ora come senescenza però esiste un altro tipo di senescenza perché altrimenti se questo fosse l'unico tipo di meccanismo ovviamente dovremmo aspettare anni per invecchiare ci sarebbe qualche matematico magari allusi che potrebbe predire il momento nel quale noi invecchiamo in base alla divisione cellulare il problema è che in realtà esistono dei vari stimoli esterni che sono in grado di attivare questo processo indipendentemente dai telomeri anche domani anche oggi quindi in modo acuto ad esempio se ci esponiamo ai raggi del sole quando andiamo al mare come sappiamo la nostra acute diventa vecchia e diventa vecchia immediatamente entro 24 e 48 ore questo tipo di senescenza si chiama senescenza prematura quindi avviene non con il passare del tempo ma avviene improvvisamente quindi esistono diverse condizioni ad esempio danno al DNA che veriva dalle esposizioni a radiazioni ultraviolette o ad esempio shock metabolici si evidenzia è stato evidenziato che ad esempio se si coltivano le cellule in una dieta ricca di grassi queste vanno incontro più facilmente alla senescenza è vero che è noto che persone obese si invecchiano più rapidamente rispetto a persone magre e viceversa che la caloric starvation che vuol dire una riduzione delle calorie che mangiamo tutti i giorni è in grado di prolungare questo limite che è o di ridurre diciamo questo limite per il quale noi le nostre cellule praticamente invecchiano ora la cosa che è emersa negli ultimi negli ultimi anni è che queste cellule che sono diventate vecchie all'interno dei nostri tessuti quindi le chiamiamo senescenti che ora siamo in grado di diagnosticare con questi coloranti in pratica purtroppo si bloccano ma rimangono attive quindi normalmente vive e normalmente anche quando ci siamo conosciuti c'è questo questo concetto che le cellule muoiono non muoiono neanche per niente purtroppo rimangono bloccate irreversibilmente nei tessuti e cominciano praticamente a accumularsi con un effetto che è noto come effetto ping pong perché questo perché queste cellule senescenti sono molto attive dal punto di vista metabolico anzi sono quasi più attive rispetto alla cellula proliferante quasi in alcuni rispetto e producono dei fattori che sono fattori pro-infiammatori esistono numerosi fattori come le citochine le interlochine e via dicendo che sono in grado di far sì che da questa cellula questi fattori vengano rilasciati vicino alla cellula che invece non è invecchiata e questa cellula invecchiata che magari già ha fatto un certo numero di replicazioni viene spinta ancora più rapidamente in senescenza e quindi queste cellule si accumulano progressivamente nel tempo perché queste cellule comunicano con l'ambiente circostanze tramite questo fenotipo che si chiama SASP quindi segrezione di fattori che inducono l'invecchiamento ora come siamo in grado oggi di dire che questo è il processo biologico alla base dell'invecchiamento perché se parlate con degli esperti di invecchiamento diranno no ma l'invecchiamento è una sindrome multiorgano caratterizzata da vari segni e sintomi come facciamo a dire che questo processo biologico è la caratteristica base dell'invecchiamento in realtà è uscito un lavoro alcuni anni fa recentemente 4-5 anni fa un lavoro fatto su animali transgenici modificati nel quale che purtroppo ci aiutano nei progressi negli avanzamenti scientifici anche se devono essere poi sacrificati per gli esperimenti che dimostrano che in animali anziani o che soffrivano di questa sindrome si chiama progeria sindrome quindi una sindrome nel quale come sapete non so se avete mai visto queste foto di questi bambini che a 6 anni sono già invecchiati quindi questi erano animali che sul fine avevano moltissime cellule senescenti se si ingegnerizzava l'animale in modo tale che queste cellule senescenti venivano uccise per l'attivazione di un gene quindi una metodica molto complessa l'animale quindi queste cellule sparivano e l'animale era in grado di ringiovanire questa è stata una grande sorpresa perché mentre esperimenti precedenti dimostravano che era possibile prolungare la vita dell'animale non si era mai osservato che l'animale potesse ringiovanire vedremo poi vi faccio vedere successivamente che esistono degli esperimenti per i quali addirittura le funzioni cognitive celebrali dell'animale migliorano le funzioni muscolari dell'animale migliorano e via di cielo come avviene questo perché questo è possibile allora sapete che un altro avanzamento recente nello studio della scienza umana è stata la scoperta delle cosiddette cellule staminali quindi tutti i nostri tessuti sono composti da cellule con caratteristiche staminali cioè con cellule che sono in grado di farsi cioè di dividersi e di dare origine a cellule figlie che poi sono in grado di per esempio riepitalizzare la cute umana o via dicendo quindi ad esempio anche nell'intestino sapete che l'intestino è un organo che prolifera molto c'è un numero molto elevato di cellule staminali che sono in grado di dare vita della progene quindi tutti gli organi che si rinnovano rapidamente come la cute e l'intestino hanno moltissime cellule staminali e alcune di queste cellule staminali muoiono ma altre cellule staminali questo si è visto da questi esperimenti vanno incontro a un processo di vecchiaia quindi sebbene le cellule staminali fino ad alcuni anni fa venivano considerate cellule immortali ora esistono delle evidenze per il quale generate da quell'esperimento sull'animale che vi ho fatto vedere per il quale le cellule senescenti producendo dei fattori in pratica all'interno del tessuto sono in grado di bloccare la funzione di queste cellule staminali così che quando le rimuoviamo le cellule senescenti questo effetto negativo sulle cellule staminali viene meno e le cellule staminali si riattivano e cominciano praticamente a rifunzionare a livello tessutale quindi da qui da quell'esperimento si è dimostrato che in pratica la rimozione di queste cellule fa sì che ci siano dei miglioramenti a livello tessutale molto importanti quindi quello che si è visto ovviamente non solamente nel modello animale ma anche nel modello umano cioè che queste cellule senescenti si accumulano progressivamente e che sono in grado quindi come dicevo qui addirittura di indurre uno stato di senescenza in queste cellule staminali ma la rimozione di queste cellule senescenti è in grado di riattivare la funzione della staminale stessa questa è una depositiva che non ha nessuno e sono molto felice di averla nel senso che ve la faccio vedere a voi l'ho presa perché studiando il cancro e il ruolo della senescenza nel cancro abbiamo fondato una fondazione abbiamo creato una fondazione scientifica basata sullo studio della senescenza che ha sede in Europa e negli Stati Uniti fra poco nel quale ci confortiamo con diversi tipi di scienziati non solamente che esperti nel settore del cancro ma anche nel settore cardiaco neuroscientifico e via dicendo e quindi oggi sappiamo queste sono dell'anatomia umana che ad esempio queste cellule che si accumulano si accumulano in tutti i tessuti quindi nuovamente questa colorazione blu è presente addirittura a livello cerebrale sapete che il Parkinson o l'Alzheimer era dovuto prevalentemente a una degenerazione ora vediamo molte cellule blu all'interno del cervello quindi pensiamo che rimuoverle potrebbe addirittura avere una funzione nel non io perché non me ne occupo io ma nella prevenzione o addirittura nella cura dell'Alzheimer anche questa è una placca aterosclerotica sapete che quando purtroppo mangiamo male e abbiamo molto colesterolo siamo geneticamente portati a accumulare come io colesterolo nel sangue si formano delle placche ecco all'interno delle placche si sono trovate le cellule sinescenti ma si sono trovate dappertutto si sono trovate ad esempio i pazienti che avevano una fibrosi epatica o pazienti che avevano una degenerazione della cornea o addirittura della cartillagine quindi non è vero solo quello che abbiamo visto nel modello animale ma anche in tutti i tessuti oggi siamo in grado di identificare queste cellule che invecchiano allora questo questo nesso biologico fra senescenza e invecchiamento ci ha fatto pensare che probabilmente agendo su questo meccanismo biologico noi siamo in grado di cercare di o prevenire l'invecchiamento o sicuramente di migliorarlo in un soggetto sano quindi da qui la diapositiva che hanno fatto gli studenti del mio laboratorio che si sono cimentati in questa presentazione dicendo invecchiare diciamo senza invecchiare cioè anche se a un certo punto noi siamo arrivati a un limite biologico abbastanza in là con gli anni però siamo in grado probabilmente saremo in grado di attenuare i sintomi di questo tipo di invecchiamento e allora questa slide ci permette forse ho ancora tempo ci permette di entrare nella terza parte del diciamo del seminario della chiacchierata diciamo come quali sono le nuove strategie terapeutiche per riuscire a combattere l'invecchiamento come facciamo a prolungare la nostra aspettativa di vita e quindi ci sono due filoni di ricerca coloro che studiano come prevenire l'accumulo di queste cellule senescenti all'interno dei tessuti e questo hanno coniato un nome questi tipi di farmaci si chiamano farmaci gerosoppressori è stato coniato alcuni anni fa un anno e mezzo fa anche se non è un bel nome però hanno deciso hanno votato che si dovessero gerosoppressori gerosuppressant e quindi questi farmaci sono quei farmaci che prevengono l'accumulazione nel tessuto di queste cellule senescenti e vi faccio vedere alcuni esempi che sono gli esempi che da un punto di vista scientifico sono quelli che diciamo hanno delle evidenze più solide e quindi probabilmente chi è stato medico chi è medico tuttora si ricorderà questa rapamicina che è un farmaco che tra l'altro è stato molto studiato in Svittera soprattutto non voglio far pubblicità dalla Novartis in passato come farmaco immunosoppressore quindi negli anni 70 negli anni 80 questo farmaco qua che veniva fuori da un fungo trovato nell'isola di Pasqua tra l'altro veniva studiato e veniva dato ai pazienti come potente immunosoppressore ora negli anni ci si è accorto che questa rapamicina è in grado di bloccare un gene che è un gene fondamentale nell'invecchiamento che si chiama appunto mTOR che non vi ho fatto vedere e questa rapamicina è in grado pertanto di bloccare l'accumulo dei nostri tessuti di queste cellule sinescenti in realtà sono stato un po' sfortunato negli anni perché la patente di questa rapamicina come anti-invecchiamento l'avevamo fatta io il mio primo professore quando un giovane studente a New York quindi il primo un po' accorgersi che funzionava nel bloccare questa senescenza cellulare siamo stati proprio noi fortunatamente anche altri si erano accorti e l'avevano già data ad esempio agli animali di laboratorio come ad esempio i vermi e questo aveva fatto sì che questi prolungassero la sopravvivenza però sono stato sfortunato ma anche fortunato perché col passare degli anni sebbene c'è stata molta enfasi su questo tipo di farmaco perché è un farmaco che ad esempio adesso viene utilizzato anche come antitumorale quindi viene utilizzato come antitumorale perché blocca la proliferazione delle cellule come immunosoppressore e anche come anti-invecchiamento purtroppo ha degli effetti collaterali quindi un individuo sano non può prendersi la rapamicina per tutta la sua vita come prevenzione di invecchiamento perché potrebbe diventare per esempio immunosoppressore avere degli effetti collaterali quindi però per capirsi è molto importante perché questo farmaco che blocca questo gene ha fatto sì che ad esempio sono stati trattati diversi modelli animali e si vede proprio che esiste la possibilità di un prolungamento di circa due o tre mesi nella vita media dell'animale che coinciderebbe con addirittura un prolungamento di anni nella vita dell'uomo ed è anche un farmaco interessante per far passare un altro messaggio perché in realtà è uno dei pochi farmaci che è stato testato non solamente nel modello animale murino ma anche ad esempio nel babuino che è molto più vicino cioè nella scimmia che è molto più vicino ovviamente all'uomo quindi quando vi dicono che ad esempio esistono dei farmaci in grado di bloccare l'invecchiamento sappiate che ne esistono moltissimi ma solamente due in pratica sono stati testati fino al livello del babuino e vi dico che uno è quello che costa meno di tutti ed è proprio la riduzione delle calorie totali nell'alimentazione quindi l'unico trattamento testato con successo fino al livello fino alla scimmia e ovviamente anche nell'uomo è questo cioè se si riduce il quantitativo di calorie c'è un prolungamento della vita in diversi modelli animali incluso quello più vicino a noi per quanto riguarda la specie ora questo però non è bastato perché si potessero effettuare dei trial clinici sui pazienti negli anni perché questo farmaco aveva anche gli effetti collaterali ma ci sono molti scienziati che cercano degli analoghi che funzionino un po' meglio quindi non è detto che nel futuro potremo trovare un farmaco che sarà un TOR inibitore che è in grado di essere testato anche in clinica poi conoscerete sicuramente il resveratrolo perché ormai tutti parlano del resveratrolo che è una molecola che è contenuta nell'uva e ormai esistono numerose ditte sia cosmetiche che di produttori di antiossidanti che vendono queste pasticche all'interno del resveratrolo ecco state attenti perché per sintetizzare un milligrammo di resveratrolo bisognerebbe bere mille litri di vino quindi in pratica il resveratrolo è proprio una di di quelle sì sì è esisto però sì è un po' lascia un po' il tempo che trova nel senso che bisognerebbe concentrare per avere un quantitativo adeguato un ora esistono degli analoghi adesso il resveratrolo però ecco gli esperimenti che hanno portato la resveratrolo funziona come un antiossidante che è in grado di modulare un gene che si chiama SIRT che è coinvolto nell'invecchiamento mi ricordo ad esempio che chi l'ha scoperto lavorava nel laboratorio vicino al nostro ad Harvard e ha fatto tantissimi soldi vendendo questa patente ad altri ad altri ma poi diciamo il mese dopo tutte le società tutte le industrie farmaceutiche avevano un resveratrolo loro a basse concentrazioni quindi e poi ecco e questo resveratrolo non è non è riuscito a prolungare la sopravvivenza del babbino per esempio della scimmia quindi la caloric starvation cioè la riduzione delle calorie è sicuramente più efficace del resveratrolo ora spero di non fare una pubblicità negativa col resveratrolo però ecco state attenti quando esistono delle sostanze che fanno però questo è un esperimento in animali che fa vedere a livello preclinico che il resveratrolo ha una funzione molto molto efficace nel prolungamento della sopravvivenza dell'icepan degli animali poi abbiamo recentemente durante una puntata del giardino di Albert io alzi non sapevo che il melograno contiene questa sostanza che si chiama urolitina A che è in grado anche questa di prevenire l'accumulo di queste cellule si è nascente a livello del tessuto ora questa è stata provata a livello preclinico non ancora neanche sull'animale però ecco queste evidenze su cellule e su altri modelli animali come ad esempio alcuni tipi di vermi o drosofila ci fa ben sperare che forse nel futuro può funzionare anche come ad esempio sull'animale e poi sul babbino e via dicendo anche sull'uomo poi esistiamo pure noi in Ticino perché come alcuni anni fa tornato dagli Stati Uniti anzi ancora negli Stati Uniti cominciai a a cercare dei farmaci come sapete che sono in grado di invecchiare le cellule tumorali perché noi cerchiamo di studiare l'opposto del meccanismo di invecchiamento all'interno dei tumori che è un capitolo che magari tratteremo un'altra volta oppure se abbiamo 5 minuti successivamente e quindi noi abbiamo cominciato a fare degli screening utilizzando delle spugne dei composti chimici o delle sostanze naturali e per esempio abbiamo pubblicato questa quest'anno che è un particolare tipo di salvia che è in grado di ad esempio bloccare l'accumulo di queste cellule però c'è ancora molto tempo finché questa sostanza venga provata poi sul modello animale poi sul babbino e poi magari amministrata anche nell'uomo quindi esistono una varietà di studi e di scienziati che cercano l'esir di lunga vita prevenendo l'accumulo di queste cellule sinescenti a livello dei nostri tessuti che è una strategia molto utile e che è anche semplice da sviluppare la maggior parte di queste sostanze sono vegetali se uno si prende un po' di melograno o un po' di salvia non cadrà il mondo però bisogna vedere se effettivamente funziona quindi ci vogliono delle basi scientifiche e adesso invece in questa ultima parte della chiacchierata vi faccio vedere un nuovo approccio terapeutico al quale chi lavora nel settore dell'aging è molto interessato soprattutto negli Stati Uniti e questo approccio terapeutico si chiama terapia senolitica per l'invecchiamento che cos'è la terapia senolitica? in pratica è una terapia per il quale si cerca di rifare con dei farmaci quello che vi ho fatto vedere all'inizio nel modello animale cioè per ingegneria genetica questi scienziati sono stati in grado di rimuovere le cellule senescenti ora c'è il tentativo di utilizzare dei farmaci che uccidano queste cellule senescenti perché questo? perché questo permetterebbe quella riattivazione delle cellule staminali che poi farebbe sì che i tessuti del nostro organismo possano funzionare funzionare meglio e allora e ora siamo agli arbori di questo tipo di ricerca però considerate che già gli americani sia Google che ha fatto un fondo di investimento e un'altra piccola società che è diventata grande hanno investito 150 milioni di dollari su questo tipo di approccio perché non perché siano delle persone che cercano di aiutare l'umanità ma perché questo tipo di approccio da un punto di vista legislativo è un po' rivoluzionario adesso vi cerco di spiegare perché mentre prima per testare un farmaco o un composto naturale che poteva prevenire l'invecchiamento si doveva prendere una popolazione all'età di 50 anni e seguirla per 30 anni questo era molto molto dispendioso con questo nuovo tipo di terapie se funzionano come stanno funzionando sull'animale non sappiamo se funzioneranno sull'uomo verranno arruolati dei settantenni o degli ottantenni gli verrà dato un farmaco che funziona come uccide e dopo 8 mesi si vedranno i risultati quindi c'è un grosso quantità di investimento in questo tipo di settore soprattutto una ricerca molto molto attiva nel cercare di identificare questi farmaci e questo è uno dei primi farmaci cosiddetti senolitici noi purtroppo non ci occupiamo di questo settore ancora abbiamo appena cominciato questi tipi di screening cosiddetti senolitici ma gli americani sono più avanti e ad esempio questo farmaco qui che è un farmaco è in grado di rimuovere le cellule senescenti in alcuni tipi di modelli nuovamente sempre modelli animali perché perché è in grado di bloccare questo gene che si chiama BCL2 che è coinvolto nel meccanismo di morte cellulare in pratica come funzionano questi farmaci siccome una cellula senescente appregola quindi una cellula invecchiata appregola questo BCL2 più che una cellula normale se noi blocchiamo BCL2 in pratica con dei farmaci noi siamo in grado di uccidere selettivamente le cellule senescenti ma non le cellule che non sono senescenti quindi sono delle terapie cosiddette target all'invecchiamento che è qualcosa di sorprendente perché fino a alcuni tempi fa questi tipi di terapie venivano utilizzati ad esempio nel cancro nell'artrite romatoide ora ci cerca di spostare addirittura all'invecchiamento questo utilizzo di composti quindi esistono anche altri approcci che sono molto interessanti e che magari era interessante discutere con voi esistono degli approcci cosiddetti di parabiosi non so se conoscete questo filone della biologia intorno al 1950 esistevano degli scienziati che avevano fuso il sistema circolatorio di due animali quindi questo veniva chiamato parabiosi poi per anni ci si era scordato di questi tipi di esperimenti finché questa ragazza che si chiama Amy Waggers ha ripreso questo esperimento di parabiosi perché gli serviva per un suo tipo di ricerca e ha notato che se fondeva il sistema circolatorio di un animale giovane con un animale anziano il sangue dell'animale giovane in pratica era in grado di ringiovanire o di migliorare le condizioni fisiologiche dell'animale anziano suggerendo che il vampirismo sapete che ha delle basi biologiche quindi come voi sapete ho chiesto anche di fare una ricerca a chi lavorava per me e apparentemente i vampiri si sa che le tradizioni popolari hanno sempre qualcosa di biologico però pare che il motivo per il quale i vampiri rimangono giovani quando succhiano il sangue è perché da una persona giovane non da una persona anziana aveva un fondamento di tipo ha un fondamento che insomma dovuto al fatto che era una sottomissione per chi perdeva delle battaglie e c'erano dei benefici che venivano visti in chi faceva questo tipo di pratica ora non mi ricordo esattamente comunque la cosa interessante è che è stato identificato ad esempio dei fattori quindi esiste adesso un nuovo filone di scienza che si basa su questi esperimenti parabiosi è stato identificato ad esempio un fattore ma ne stanno uscendo fuori parecchi per il quale questo gdf 11 in pratica è in grado di è un fattore circolante è in grado di far ringiovanire l'animale praticamente anziano nuovamente attivando queste cellule staminali presenti all'interno dei tessuti dell'anziano e esiste addirittura un paper di recente pubblicazione dove sembrerebbe che l'opposto sia anche vero da qui se uno volesse fare una battuta il motivo per il quale gli uomini anziani sono sempre accompagnati da donne giovani o cercano almeno o cercherebbero idealmente di essere accompagnati da donne giovani ora il quindi sembrerebbe che esistano i fattori circolanti e presenti che possono essere in pratica la ragione di questo ora concludo perché questa è una delle diapositive con la parabiosi ovviamente dicendo che questo ah ecco mi sono scordato di dire che esistono degli americani nuovamente che non solo stanno cercando di fare questo negli animali ma lo fanno addirittura già nell'uomo e quindi esistono delle cliniche apparentemente in California dove esistono delle persone che si fanno trasfondere il sangue di persone più giovani nel tentativo di prolungare la sopravvivenza e di trovare questo l'esir di lunga vita non credo che in Europa esistano ancora questi tipi di cliniche ma insomma direi che ho cercato di sintetizzare al massimo quello che sta avvenendo un po' nel settore della terapia alla senescenza cellulare grazie